. Anticipazioni uomini e donne, Tina cacciata dal programma? Ecco la decisione. Uomini e donne anticipazioni, Tina Cipollari a rischio? Sarà cacciata via dalla trasmissione di Canale 5. Cancelletto Tina Cipollari questa volta la combinata davvero grossa. . Nel corso dellultima puntata di Cancelletto Uomini e donne trono over trasmessa su Canale 5 abbiamo visto che lopinionista ha esagerato decisamente troppo nei confronti di Gemma Galgani, al punto da avere un comportamento del tutto sbagliato nei confronti della dama torinese, la quale si è sentita umiliata dalla Cipollari e da tutti coloro che in quel momento in studio si sono messi a ridere di fronte allennesimo show di Tina. . Tina Cipollari al centro della bufera a uomini e donne. . Questa volta, infatti, la Cipollari ha rovesciato una bottiglietta dacqua sul capo di Gemma Galgani, prendendola alla sprovvista dopo lennesimo scontro verbale che cè stato tra di loro e dopo che ancora una volta la dama torinese ha cercato di avere solo un confronto verbale con la Cipollari senza mai trascendere più di tanto. . La reazione di Tina Cipollari a uomini e donne è stata a dir poco spropositata e in moltissimi sul web sostengono che questa volta lopinionista abbia davvero esagerato nei confronti di Gemma, che rimane comunque una signora di una certa età che muerietterebbe maggiore rispetto. . 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 Pag. 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 Pag.